Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen ragazzi come ogni mercoledì alle 14 siamo qui con un nuovo episodio sulla carriera Dopo l'ultimo episodio abbiamo perso la finale, vi ricordo che ho messo in vendita One Mata Ragazzi vi chiedo scusa ma questo punto del gatto non ha più registrato il gameplay, si è bloccato sulla schermata che vedete Quindi vi faccio io un breve riassunto di ciò che è successo Abbiamo venduto Rera per 40 milioni di euro, abbiamo venduto Mata per 31,5 milioni di euro Abbiamo dato in prestito due giovanissimi della primavera e abbiamo ricevuto un'offerta per Blind, non mi ricordo da quale squadra Ok ragazzi andiamo avanti col video Ragazzi abbiamo un budget di 67 milioni, io avevo visto che Verrat ti chiede 110 mila euro di stipendio Quindi volevo provare a modificare, vediamo un po' Ok eccoci qui, allora io ho 78 milioni, però ragazzi siccome sono molto ostinato io comunque provo già a fare una prima offerta Per far capire che faccio sul serio Ragazzi attenzione, offerta accettata, abbiamo lottato l'offerta del giocatore e accettiamo le condizioni Attenzione ragazzi potremmo prendere Marco Verratti a sorpresa Ragazzi attenzione abbiamo preso Marco Verratti Marco Verratti è il nuovo centrocampista del Manchester United, lasciate subito un like enorme per questo grandissimo acquisto 23 anni italiano, fortissimo, il nuovo Andrea Pirlo è nel Manchester United, subito un like ragazzi Eccoci giunti nella finale della Community Shield ragazzi contro il Leicester, la rivelazione dello scorso anno La formazione è quella titolare con i nuovi 4 acquisti perché ora c'è, anzi ragazzi 3 acquisti perché Giordial va ancora il cerotto come Miticarian quindi sono fuori rosa per precauzione fino a che non si riprendono E ragazzi guardate al centrocampo c'è Verratti che è il nostro playmaker Andiamo subito nel match Eccoci giunti ragazzi nella finale di Community Shield Tra Manchester United e Leicester Slimani, nuovo acquisto di Leicester Attenzione qua Attenzione ancora a Leicester Attenzione a Leicester, fermato Cross dentro, colpo di testa fuori No, poi Vardy molto bravo, viene però fermato Attenzione a Marco Verratti Verratti che si gira, subito, tiro di Marco Verratti fuori di un non nulla ragazzi Vicinissimo al gol al debutto Marco Verratti Attenzione ancora a Memphis, Memphis Di Pai Dentro Cross Progio, pallone dentro, Marsella c'è il gol del 1-0 Si passa in vantaggio Con Martial Andiamo sul 1-0 Bellissimo cross Eccoci, rivediamo Rojo Cross e grande polpo di testa Stato imperioso Di Martial Rivediamo 1-0 per noi Ancora Rooney Dentro per il polpo Pogba Bella azione per ora Bella azione per Rooney Che prova il tiro E c'è Schmeichel che para Bella azione però da parte nostra Attenzione qua Darmian a vuoto Al Brickton Ancora lui Mette dentro Va sbaglia tutto Rooney Slimani può provare il tiro fuori Di pochissimo Rooney aveva fatto un erroraccio Oltre a Darmian Meno male come è andata E finisce qui ragazzi Un primo tempo Con poche occasioni A dire il vero Molto bloccato Partita molto tattica E Leicester gioca In 11 Dietro la linea della palla E prova le ripartenze Quindi sto trovando pochi spazi Per fortuna sono riuscito a sbloccare la partita Vediamo come andrà Il secondo tempo Attenzione Memphis Depay Verso Gwen Rooney Che va da fuori Subito per il polpo Pogba Dentro per Martial Martial sfugge all'avversario Il tiro di Martial Respinto Ci sono verratti dentro Bella l'idea Per Memphis Depay Per Vardy Vardy può provare il tiro L'attraversa linea Incredibile C'è stata una deviazione Poi ancora Gwen Rooney Prova il tiro Ancora sulla linea Rimpallato Attenzione qua Cross messo dentro Pallone buttato fuori Bravo Rojo Molto molto bravo Bravissimo Memphis Depay Attenzione Erroraccio qua di Memphis Pallone che rimane lì Chiude tutto Tiago Silva Buonissimo lo scatto di Vardy Per Pogba E solo Wayne Rooney Prova il tiro Rooney Ancora Schmeichel Ancora Schmeichel Che blocca E finisce la partita ragazzi Una partita molto molto bloccata Ma che abbiamo portato a casa Quindi il primo trofeo Ufficiale della stagione La Community Shield È nostra Sarebbe Equivalente Della Supercoppa Italiana Prestazione ottima ragazzi Ecco qui Nel frattempo I festeggiamenti Debutto ottimo Da parte di Marco Verratti Debutto ottimo ragazzi Ovviamente nei highlights Non lo noterete Ma ha fatto una partita Veramente ottima Attenzione Ed ecco qui ragazzi Il primo trofeo La Supercoppa inglese La Community Shield È nostra Siamo i campioni E c'è essere che ha giocato Una buona partita Molto tattica Molto difensiva Ma grazie a Martial Ce la siamo portati a casa Ok ragazzi Ora andiamo avanti Attenzione ragazzi Offerta di mercato Abbiamo ricevuto un'offerta Per Joy Raleigh E Michael Carrick Andiamo a vedere Allora ragazzi Joy Raleigh Bristol City Prestito per un anno E io direi di accettare Perché è giusto fargli fare esperienza A questo terzino Che abbiamo usato In una delle partite Del torneo estivo E che è molto molto bravo E poi abbiamo avuto Un'offerta Vediamo Di acquisto Per Carrick Che ha 35 anni Cdc 81 Di 2 milioni E 2 Io ragazzi direi Di darlo Carrick Perché abbiamo Felleni e Berratti Per la stagione Non Ha già 35 anni Quindi Si potrebbe pure dare Ragazzi Secondo me Oppure lo tengo Ragazzi Per ogni evidenza Beh ragazzi Faccio una cosa Lo lascio Perché abbiamo anche La coppa Comunque di rega inglese Siccome ci sono molte partite In Inghilterra Lo lascio Per fargli giocare Magari qualche Partita così sporadica Sì va bene Rifiutiamo Come vedete ragazzi Questo è il calendario Noi siamo arrivati Il 10 di agosto Il 14 Ossia fra 4 giorni Inizia la Premier League Abbiamo il primo scontro Contro questa neopromossa Il Bornemouth Giocheremo fuori casa Quindi nel prossimo episodio Inizieremo finalmente il campionato Come sempre vi invito A lasciare un like Se questa serie vi sta piacendo Commentate se avete qualcosa da dirmi Se non l'avete fatto ragazzi Iscrivetevi al canale Se volete condividete il video Qui sotto Come vi dico sempre ragazzi Trovate tutte le mie pagine social Quindi passate anche da lì Noi ci vediamo Mercoledì prossimo Alle 14 Con il proseguo della carriera Qui da AngeloNero83 Tra di tutto E ciao gamers Inizieremo 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 Grazie.